Il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli sarà a Caltanissetta sabato, un fito programma a quello del rappresentante del di Castero alla Cultura. La giornata prenderà il via alle 9 da San Pio X dove sono custodite le vare che sfilano il giovedì santo. A seguire alle 9.30 sarà in questura per deporre la corona di fiori nel giorno della ricorrenza del santo protettore della Polizia di Stato. Ed infine inaugurerà la mostra degli abiti dei capitani della Real Maestranza che sarà allestita nell'ex circolo dei nobili in piazza Garibaldi. Infine andrà ad ascoltare la messa il pontificale del vescovo nel giorno della ricorrenza di San Michele. Invitato dal deputato regionale Giancarlo Cancelleri, qualche anno addietro fu anche Luigi Di Maio, oggi vice premier, a presenziare la festa. Il rappresentante del governo così potrà farsi un'idea del percorso delle tradizioni della settimana santa. Nella sua mattinata nissena sarà inoltre accompagnato dal sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo.